ciao a tutti sono Maurizio del 23 Matteo sta organizzando un documentario sulla storia del 23 e quindi noi abbiamo bisogno di materiale il più possibile quindi se qualcuno di voi ha materiale a video fotografie tutto ciò che avete che riguarda il negozio sarebbe un piacere mandarlo qui questa è la mail nella quale potete mandare link foto se sono video troppo pesanti fate un we transfer a questa mail qui mandate il materiale che poi io selezionerò ma butterò dentro tutto perché abbiamo bisogno di tantissimo materiale e abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti poi chi manda il materiale verrà veramente citato nei titoli di coda come nei film seri quelli veri perché questo è un film vero perché appunto siamo trovati una situazione che la storia è bellissima del 23 tutti la conosciamo abbiamo bisogno però di materiale di archivio il ragazzo qua è andato tanto bel materiale che avete visto nel video ma è sempre poco ma è sempre poco io sono sicuro che in 50 anni dica onorata carriera ci sarà qualcuno che ha fatto un filmino come dici due foto mandatele sarebbe un grandissimo piacere mandate tutto a il 23 il documentario chiocciola video eventi punto net trovate tutto ragazzi aspettiamo il vostro materiale grazie grazie mille